allora banner banner che sinceramente mi piace perché caius come detto prima mi manca selfie mi manca fris va bene leviamoci questa sofferenza vediamo cosa succede non fatemi vedere la orb ok il caricamento non è stato lunghissimo quindi allora mettiamoci così ok allora una due tre quattro oro non ci credo non ci credo alla multi no dammi lei led di caius che mi manca caius ok 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 va bene dai cominciamo vediamo vediamo che cosa succede con 50 ticket io da un lato ci spero nelle led e nella bt di caius perché comunque caius mi manca e con la scusa prendere entrambi potrebbe essere figo cioè golbez verde mi piace perché è figo golbez io aia 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 già orb dorata aia ho paura ho paura dammi lei led di caius per favore cazzo ci stavo sperando Grazie a tutti Ma invece di sera ne vogliamo parlare? Grazie a tutti Se è scuro l'LD si fa ptbt Con quale risorse ce la faccio a fare il ptbt? No pt ancora no Ma quante sub? C'è 19 Quasi C'è quasi metà obiettivo Porca puttana Perché quante erano? Aspetta che le controlliamo allora Come 50? Che cazzo siete pazzi? Come 50? Chi mi conosce lo sa Io sono la persona che mantiene la parola data Quindi abbiamo rispettato Abbiamo rispettato la volontà E quindi andiamo a fare pt O comunque andiamo a spendere fino Andiamo a spendere Andiamo a spendere le gemme Fino a quando almeno non si ottiene l'LD di selfie Qualora dovesse essere Facciamo 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 il pt Quindi Facciamo Dai Ora che ho liberato Lo spazio Bt E la bt c'è Va benissimo Se c'è anche l'LD E' perfetto Così Si va a pitare direttamente Ovviamente Ovviamente Però Il lecca lecca Così Sbattuto in faccia Bello Mi piace E' perfetto Sbattuto in faccia Sbattuto in faccia C'è anche lì Sbattuto in faccia Iscriviti I'ai Sbattuto in faccia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una delle due. Basta il rischio di ferie. Basta il rischio. Madonna mia. Basta, facciamo l'effetto cerotto. Ok. Le orbo dorate ce le guardiamo. Caius, dai, Caius. Emergi. Caius, emergi. Caius. Caius. No. No, povercchio. Madonna mia. Cioè, assurdo. È assurdo. Vediamo. Cioè, posso scendere fino a un tot di ticket. Poi, dopodiché... Non lo so. Cioè, veramente... Ecco. Ex di Caius. Le orbo dorate le lascio. Il problema è che mi fa quei connecting in basso a destra e sono praticamente... E' Prish. Quella grandissima... Scusatemi, ma... Troia è inteso come città. Alleluia. Oh, va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Per la gioia di Angel è arrivata selfie. Bene. Oh, finalmente. Non c'è ora il costume. Sapete come vi rispondo? Con un gesto easy. Così. A posto. Non c'è.